Bentornati a Broken Stories. Oggi vi voglio parlare di un libro che ho appena finito di leggere, ero molto curioso, e ve ne parlo dalla mia postazione di scrittura, con i suoi difetti, con le sue macchie sul muro, perché voglio che sia una recensione molto sincera, molto senza filtri. Naraka è il romanzo di... ve lo mostro... oh, scusate... è il romanzo, questa è la copertina, di Caleb Battiago, ambientato in un futuro estremamente distopico, post-apocalittico, in cui si muove la protagonista, Kiki, una sicaria, un killer a pagamento, che appunto si muove in un pianeta, in particolare in una Parigi del futuro, in cui la speranza è ormai scomparsa. L'umanità è ridotta a uno stato quasi bestiale. Tutto ciò che conta sono l'arricchimento, il sesso, la violenza, la prevaricazione. Un mondo che non fatichiamo a paragonare al nostro. In questo mondo Kiki viene trasportata, in quanto detenuta, nella prigione di Naraka, che si trova sulla Luna. Qui, nei sotterranei, i prigionieri non vengono certamente rieducati, ma ridotti, e questo lo posso dire perché si scopre nelle prime pagine, vengono ridotti a carne in scatola. Quindi si tratta di una... diciamo di un mondo in cui l'umanità ha perso completamente se stessa. Alessandro Manzetti, alias Caleb Battiago, come in questo caso, si avventura e ci porta all'interno di questo mondo senza risparmiarci alcuna efferatezza. È uno scrittore che naturalmente non ha paura di mostrarci il peggio del peggio e lo fa senza riserve. Forte di uno stile elettrico, sincopato, che fa molto leva sulle frasi nominali, uno stile assolutamente moderno e con il quale, dobbiamo ricordare, Alessandro Manzetti ha comunque conquistato la critica anche internazionale vincendo due volte il premio Pram Stoker Award, cioè il premio internazionale più importante nell'ambito dell'horror e della narrazione dark. Quindi un autore che vale la pena assolutamente di tenere d'occhio, di capire, di leggere, perché si tratta di qualcuno che si fa valere nonostante l'ambiente sicuramente asfittico e limitato dell'editoria italiana per quanto riguarda, se non altro, la narrativa a tinte forti e ad altissima tensione. Non oso immaginare nessun editore che facilmente avrebbe pubblicato un libro del genere, se non le edizioni Independent Publishing, che è la casa editrice con cui Alessandro Manzetti stesso sta portando in Italia moltissime opere di rilievo internazionale e è una casa editrice che sta cercando di fare cultura intorno all'orrore, all'orror, all'irrazionale, in modo assolutamente non banale. Quindi siamo di fronte a un personaggio da tenere d'occhio, come dicevo, interessante. Il libro si legge, si legge molto molto velocemente, non è mai, come dire, banale. Ho trovato al suo interno diverse, diciamo, influenze culturali che sicuramente arrivano dai gusti, sono derivato dai gusti dello scrittore. Alcuni nomi dei personaggi, per esempio, si rifanno un po' alla, mi garantino. Abbiamo un Hanzo, come attori Hanzo, abbiamo anche un personaggio che si chiama Miyazaki, quindi altro ambito cinematografico. Kiki a sua volta è il nome di un personaggio di un film di Miyazaki, se non sbaglio. Ma naturalmente le influenze poi letterarie sono tante, sono variegate, non stiamo parlando di un autore banale. Un autore che oltretutto, secondo me, ha il coraggio di affrontare dei temi molto spinosi. Il mondo di Naraka è quello in cui viviamo noi, noi stessi, ma portato alle sue estreme conseguenze. Nel recente film di Cronenberg, Cosmopolis, che è il tratto da un romanzo di Delillo, o da un racconto di Delillo, c'è una frase molto significativa. La frase recita, più o meno, non ricordo le parole esatte, che l'estrema conseguenza del capitalismo è l'omicidio. Notevole. Ed è assolutamente vero. Naraka si inserisce in questo solco, dimostrandoci che quando il mondo è praticamente al tracollo, il capitalismo non si ferma. E se non ha più risorse su cui fare leva, allora fa leva sugli esseri umani. E gli esseri umani in questo romanzo sono semplicemente ridotti al rango di carne. Un tabù, quello del cannibalismo, che questo testo affronta senza alcuna paura, senza alcuna ritrosia, il che lo rende straordinariamente interessante e comunque unico nel panorama delle esangui pubblicazioni italiane. Qui di sangue ce n'è moltissimo. Non tutti saranno in grado di reggere l'impatto con una lettura simile, ma sicuramente chi ama le storie che io definisco broken stories, o comunque, parliamoci chiaro, le storie ad altissima tensione e che ti tengono incollate al libro senza estreme, senza banalizzazioni, bene, questo è un libro che credo potrete apprezzare. Io l'ho apprezzato. Ci sono moltissimi spunti di riflessione e poi, sì, comunque la capacità di prendere a schiaffi il lettore, cosa che non fa mai troppo male. Di recente, oltre a Cosmopolis, direi che il tema del capitalismo che ci cannibalizza è stato affrontato con sapienza da opere che mi sento di accostare a questo romanzo. Per esempio, Snowpiercer, di, come si chiamava, il regista dei Parasite. Anche lì avevamo il tema degli esseri umani che diventavano cibo, per chi, naturalmente, per chi non si poteva permettere di meglio. Negli anni settanta abbiamo avuto un bellissimo film con Chatton Aston che si intitolava Soyland Green, in cui, anche lì, a causa della sovrappopolazione, tema che ritorna in Naraka, non era rimasto altro agli uomini che nutrirsi di un cibo ricavato dagli uomini stessi. Quindi io trovo che sia un romanzo che ha diversi punti di grande interesse, lo stile non banale, la capacità dell'autore di spaziare da un registro infimo, molto basso, a uno molto, molto elevato, con riferimenti culturali che spaziano in molte culture, in molti ambiti anche religiosi. E a tal proposito vorrei sottolineare che ho anche molto apprezzato il fatto che in questa fabbrica dell'inscatolamento della carne umana, a un certo punto, e questo è un chiaro riferimento, secondo me, una chiara indicazione dell'autore al tema, al sottotesto presente nel suo libro. Beh, a un certo punto i fabbricanti, quindi i proprietari della fabbrica, si rendono conto che i loro prigionieri sono un po' troppo inclini al suicidio. Ridotti ormai a un prodotto, gli esseri umani non vogliono più vivere. Un po' come abbiamo visto accadere in alcune fabbriche di apparecchie ad alte tecnologie in Cina, per esempio. Bene, quindi che cosa si inventano i proprietari di questo stabilimento, di questa impresa che si chiama New Moon? New Moon, incredibile. Si inventano di creare una religione che giustifichi e avvalli la tortura di questa vita assurda. E quando trovano un loro sacerdote, un predicatore, ebbene, riescono proprio a ottenere quello che speravano. I suicidi calano e perfino l'idea di essere semplicemente carne da macello diventa accettabile per le loro vittime. Insomma, Naraka, di cui vi voglio mostrare ancora la copertina, nonostante il riflesso di cui mi scuso, è un romanzo per pensare, sicuramente per ottenere un'evasione non scontata, è un libro che non annoia, e questo è sempre fondamentale per quanto mi riguarda. Quindi, un autore che sa come muoversi, sa come conosce molto bene il proprio mondo, e sa che probabilmente non ha altra, non ha alternativa che scrivere questo genere di opere, non facili, non per tutti, ma sue al 100%. Questo comunque ce lo rende decisamente apprezzabile. Naraka, di Caleb Battiago, edizione Independent Publishing, lo si può comprare sia in formato cartaceo che, a un costo veramente irrisorio, e cosa apprezzabile, in ebook. Dategli un'occhiata se ne avete il coraggio. Saluti a tutti da Broken Stories, da Flavio Truisi, vi invito a iscrivervi al canale, e presto con altre riflessioni sulla scrittura, e sui libri, e sulle storie che ci piace leggere, o guardare, o comunque apprezzare, e in cui ci piace affondare fino agli occhi. Saluti a tutti.